Vuoi delle patate al forno perfette, croccanti fuori e morbide dentro? Ecco il nostro trucchetto! Taglia a cubetti delle patate a pasta gialla e metti in ammollo con il sare per almeno un'ora. Sciacqua bene in modo da eliminare l'amido e versale in acqua bollente. E ora il nostro segreto, un cucchiaino di bicarbonato per ottenere una superficie croccante e saporita. Sbollentale per 5 minuti e poi condiscile con sale, pepe, olio e rosmarino. Via in forno per 40 minuti a 190 gradi, voilà! Un po' di sale e sono pronte per essere mangiate! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!